Buonasera sono Urbano della San Imureno Volkswagen Audi di Fucecchio stasera vi presento una nuova arrivata nel nostro parco usato si tratta di questa bella Mazda 2 1.3 benzina con l'impianto a GPL. Allora alcune notizie su questa vettura intanto vi faccio vedere lo stato della carrozzeria esterna che come potete naturalmente notare non presenta anomalie di rilievo quindi è una vettura usata molto molto presentabile. A livello di interni troviamo la sua tappezzeria anche questa molto bella dove non ci sono strappi usure buchi di sigaretta anche perché il precedente proprietario non era un fumatore quindi la vettura all'interno non ha cattivi odori molto profumata. Abbiamo il suo climatizzatore autoradio con il cd la vettura ha percorso 160 2000 km abbiamo il volante multifunzione dove poter regolare l'autoradio quindi è una vettura veramente ancora tutta da sfruttare un'altra cosa importante può essere guidata dai neopatentati quindi per incominciare ai ragazzi e le ragazze che hanno bisogno di una vettura economica sotto il profilo del prezzo economica sotto il profilo dei consumi è proprio proprio adatta per cominciare quindi è già disponibile presso il nostro conto vendita potete già venire a vederla potete venire a provarla oppure potete anche già telefonare ai nostri numeri per avere quante più informazioni possibili è possibile su richiesta anche fare dei finanziamenti naturalmente a tassi agevolati quindi a questo punto vi dico per qualsiasi informazione potete telefonare oppure ripeto venire nel nostro punto vendita vi presenteremo sia questa vettura oppure altre proposte sul nostro usato vi ringrazio quindi dell'attenzione e vi invito a venire nei nostri nel nostro salone a vedere le nostre offerte vi ringrazio e a presto